Buongiorno, benvenuti. Siamo alla Venice Design Week. Questo è l'incontro tra storytelling e e-commerce. Vogliamo raccontare che cosa si sta facendo per artigianate design in rete. Quindi abbiamo coinvolto la dottoressa Calcagno che insegna Innovation Management nel Dipartimento di Management a Ca' Foscari e lei modererà questo incontro e vi presenterà a sua volta sia un rappresentante di Homo Faber sia un rappresentante di Italian Stories che hanno accettato di partecipare proprio per raccontarci la loro avventura nello storytelling. Quello che Venice Design Week sta cercando di fare è proprio quello di promuovere soprattutto in questa edizione tramite delle interviste che vengono fatte agli artigiani tramite il nostro index del design l'attività degli artigiani e dei designer. Proprio perché in questa edizione più che mai ci concentriamo su Venezia che dopo il lockdown ha avuto come tutte le città e come una grosse problematiche per il turismo. Quindi ci ritroveremo poi a parlare di queste problematiche legate al turismo anche sabato mattina alle 11 all'Ateneo Veneto. Quindi chi volesse iscriversi è ancora possibile farlo anche perché quella è una conferenza che trasmetteremo sia in streaming sia in presenza. E quindi ci fa piacere dare l'avvio a questo dialogo. Noi online stiamo vedendo che vi sono molte piattaforme che permettono della vendita. Anche Amazon ha deciso di aprire da qualche anno il Landmade proprio per valorizzare gli autoproduttori sostanzialmente il fatto a mano ciò che riteniamo che abbia un'eccellenza che vada curata e i rappresentanti che abbiamo qui chiamato sono proprio dei storyteller d'eccezione. Quindi ci parleranno delle loro esperienze. Inviterai qui Monica Calcagna. Ben trovati i nostri ospiti, ben trovati tutti quelli che sono connessi in questo momento su Zoom. Faccio una brevissima introduzione un po' per dare il senso di quello che ci siamo anche raccontate con Lisa quando mi aveva chiesto di fare questa attività di moderazione all'interno di questo dibattito. Così raccontando un po' quello che ci siamo anche scambiate come idee. Lo storytelling è diventato è una delle parole più usate e abusate degli ultimi anni evidentemente perché siamo tutti chiamati a diventare storyteller di qualcosa ma è anche potentissimo nel coinvolgerci e nel rilanciare un sistema e penso a tutto il mondo del Made in Italy che evidentemente non può solo vivere che non può vivere senza raccontare in maniera adeguata l'eccellenza della propria storia e il proprio il proprio percorso e la propria specificità. Mentre mentre questo è evidente dall'altra parte è anche evidente che noi viviamo in un mondo di piattaforme globali che sono entrate in maniera assolutamente prepotente nella nostra vita sempre di più e soprattutto in questi ultimi mesi. io conosco nell'ambito anche della della retail del commercio molti molte eccellenze ad esempio nell'ambito della moda così come della cultura che in questi sei mesi hanno chiuso la propria attività hanno dovuto ripensare totalmente la propria esistenza stanno lottando estremamente rispetto delle piattaforme globali che entrano nella nostra casa Lisa ha citato Amazon ma ci sono piattaforme diciamo prevalentemente americane nord europee anche in alcuni casi italiane che ci forniscono tutte quelle che sono le emozioni e lo storytelling attraverso la musica attraverso i libri che leggiamo la musica che ascoltiamo i film che amiamo e che vediamo e che sempre di più diventano un linguaggio che ci accomuna molto di più di quello che poi sono le esperienze di una vita reale fisica che negli ultimi tempi è ridotta all'essenziale no perché tutto questo ha coincido anche col fatto che mentre noi viaggiamo tantissimo con la mente con le possibilità che ci che ci si aprono nel mondo digitale in realtà viaggiamo pochissimo invece nella realtà vera e quindi non è sufficiente che poi i negozi riaprano i centri si riaprano perché comunque il tipo di vita che abbiamo assunto il fatto che lavoriamo di più in smart working il fatto che limitiamo gli spostamenti il fatto che quando ci spostiamo indossiamo una mascherina magari non abbiamo più di tanto voglia di metterci a chiacchierare con le persone che incontriamo tutto questo influisce sul nostro modo di spendere il tempo nella città nell'incontro con le persone e quindi nella vita reale quindi siamo siamo andati prepotentemente in questa direzione quindi tutti quanti si sono digitalizzati io sono docente in un'università che si è fortemente digitalizzata come la gran parte delle università italiane e anche se anche se punta ad offrire un'esperienza che sia reale sia digitale il problema è mettere insieme queste cose quindi vivere questo momento di molto di molto esigente nei nostri confronti dal punto di vista dell'investimento tecnologico eccetera ma senza perdere la specificità anzi sfruttando la leva digitale proprio per valorizzare le differenze le specificità quelle che rendono uniche queste attività rispetto al mondo globalizzato questo in particolare è evidente per me è sempre stato evidente io sono abbastanza appassionato di tutti quelli che sono i siti e le piattaforme nell'ambito della moda dove ad esempio sì in qualche modo oggi sono costretta a fare riferimento proprio perché alcuni dei negozi che mi piacevano non riesco a raggiungerli o alcuni sono in una fase appunto più critica ma in realtà è un po' una debacle questa perché queste piattaforme a mio parere non riescono mai a raccontare la specificità del nostro design della nostra moda del nostro nel nostro modo di rappresentare perché spesso passano per pagine piuttosto stereotipate per immagini che sono sempre riprodotte nello stesso modo per fisici modelle donne volti uomini che rappresentano un ideal tipo che in realtà non ci rappresenta e quindi poi tutto questo rimane rimane schiacciato e invece andrebbe andrebbe valorizzato con persone vere con facce vere con facce che ci ricordano come siamo e con abiti che ci ricordano dove viviamo ad esempio no perché può essere estremamente interessante per esempio per un negozio locale poter vendere su una piattaforma globale quindi andare a iniziare a pensare a un pubblico che è globale ma poi si troverà una vetrina che magari non sarà capace di parlare al consumatore locale quindi ci troveremo tutti quanti connessi ad acquistare online ma nessuno che viaggia più per la città che passeggia per una città che 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 incontra quella che è l'eccellenza locale e questa non è una visione pessimista io credo che le piattaforme siano assolutamente e la digitalizzazione sia una grande leva una grande una grande forza ma come tutte le leve ha bisogno di essere gestita non solo gestita ma anche progettata e ripensata con le specificità di chi la deve di chi la deve utilizzare perché altrimenti rischiamo di standardizzare tutto di nuovo quindi la digitalizzazione poi diventa una spinta alla standardizzazione che quello che invece penalizzerebbe la ricchezza della nostra storia di artigianato di creatività di design di moda e invece appunto la schiaccierebbe verso qualcosa che chi non è quindi così tornando alla mia intenzione che era quella di coinvolgervi in un dialogo in una conversazione più che fare un monologo io volevo chiedervi innanzitutto volevo fare due domande ve le anticipo così anche il pubblico sa dove voglio andare a parare diciamo e che riguardano diciamo un pre un dopo cioè la vostra storia raccontata rispetto a quello che è stata la vostra storia all'inizio gli obiettivi le finalità il modo in cui l'avete pensata progettata e gestita fino a qui e la vostra storia oggi in un momento di digital divider possiamo chiamarlo in vari modi in cui la cosa migliore che possiamo fare non pensare resistiamo perché poi torneremo come prima perché questo ci aprirà sicuramente oggi viviamo delle limitazioni ma viviamo anche delle potenzialità enormi che ci aprono non solo mercati ma anche progettualità nuove quindi c'è un prima e c'è un dopo c'è un durante anche no che state già arrivendo e quindi volevo chiedere se funziona meglio possiamo partire dall'ospite che abbiamo qui adesso che abbiamo in condivisione del computer quindi io mi sposto e lascio quindi lo spazio a Eleonora Dorizzi fondatrice di Italian Stories e quindi e poi lascerei lo spazio invece Andrea Tomasi project manager di Homo Faber quindi abbiamo due storie che sono state già introdotte prima da Lisa e io vi chiederei uno alla volta adesso manteniamo un po' di sequenza per forza di cose perché questo è anche la gestione di della nostra conferenza di oggi di raccontarci il prima e poi vediamo vediamo il dopo buon pomeriggio a tutti sono Eleonora Dorizzi ringrazio di papalazzo per l'invito e benissimo per essere qui Italian Stories è un marketplace una piattaforma dove si possono acquistare delle esperienze di visita o di workshop con artigiani italiani in tutta Italia artigiani dell'artigianato artistico ma anche dell'agroalimentare nasce nel 2013 quando ancora la parola storytelling non si sapeva bene cosa fosse né tantomeno che cosa fosse il turismo esperienziale forse era un po' all'inizio del mondo Airbnb e nasce dall'idea proprio del fatto che mancasse una piattaforma un'unione un fil rouge che unisse due grandi asset del nostro paese da un lato l'artigianato e dall'altra il turismo artigianato che era in un periodo di crisi e lo è tuttora da certi punti di vista e dal punto di vista turistico c'era in cui c'era adesso c'è questa richiesta di esperienze da vivere in modo diverso quindi di viaggiare in modo diverso però non c'era niente dal nostro punto di vista e non c'era niente effettivamente a livello nazionale che mettesse insieme questi due grandi mondi e che desse la possibilità tramite appunto una piattaforma digitale di incontrare di mettere in collegamento direttamente le persone con questi artigiani di cui tanto si parlava si parla perché si sente sempre parlare del nostro grande Made in Italy però poi quando andiamo a vedere nei fatti quindi tante eccellenze, tanta qualità rischia di scomparire e quindi appunto l'idea nasce nel 2013 e la piattaforma di cui vedete adesso un'immagine che potete trovare anche online nel 2015 nasce la piattaforma grazie anche a un bando che ci ha permesso di costruirla ma per costruirla abbiamo dovuto passare prima un po' dalle forche caudine perché cosa ci sono resi conto nel momento in cui abbiamo cominciato a lavorarci che online non c'era materiale narrativo quindi immagini, storie, niente che parlasse degli artigiani soprattutto non c'erano immagini ecco perché una delle prime azioni che ci sono dovuti trovare a fare è stata quella di costruire un format narrativo format narrativo che ci ha permesso poi di andare a costituire un patrimonio di immagini oltre effettivamente di storie narrate, raccontate, quindi le storie effettivamente degli artigiani che sono sulla nostra piattaforma per far rendere conto le persone del luogo dove sarebbero andati, di che cosa avrebbero trovato e di chi si sarebbero trovati davanti quindi abbiamo strutturato il nostro format narrativo su tre punti cardine gli spazi come vedete in questa immagine perché spessissimo i laboratori sono degli spazi meravigliosi di per sé adesso questo ne ho trovato uno particolarmente rilevante a un'antica chiesa sconsacrata dove c'è un meraviglioso laboratorio di tessitura a Perugia e quindi spazi per un punto. Secondo punto le persone quindi tutti quegli aspetti legati alla relazione la possibilità di incontro, cosa succede dentro, quindi le relazioni all'interno del laboratorio della realtà aziendale artigiana e quello che invece poteva succedere nel momento in cui le persone andavano lì quindi il racconto della relazione tramite le persone e poi ovviamente arriva alla parte del prodotto perché è vero che per noi che lavoriamo dal punto di vista della narrazione turistica è importante appunto l'aspetto interpersonale ma è altrettanto vero che ci concentriamo molto anche sulla qualità e sulla rarità anche del prodotto realizzato come in questo caso proprio un artigiano di Venezia che fa parte della nostra piattaforma e Battiloro che sicuramente tanti conosceranno per chi ama come dire l'artigiano quindi questi tre punti cardine e abbiamo dato anche agli artigiani alcune indicazioni cioè racconta di te l'unicità del tuo lavoro, descrivi il tuo laboratorio e il territorio dove vivi perché ci sono subito detti però gli artigiani possono essere una chiave per capire il territorio in modo allargato possono essere degli interpreti del territorio e quindi spiega perché le persone dovrebbero venire a trovare te ma anche di conseguenza che cosa possono trovare intorno a te perché spesso una realtà artigiana si è formata in quel modo lì perché intorno aveva un contorno adeguato e quindi abbiamo dato proprio dell'indicazione adesso io sto parlando proprio della parte legata allo storytelling in pratica che è quella che mettiamo in pratica ancora oggi perché cosa succede oggi? oggi molte realtà che vogliono lavorare sul proprio territorio per sviluppare questo tipo di strumento in chiave turistica ma non solo ci chiamano per avere un confronto e per aiutarli a costruire una narrazione del territorio in chiave turistica quindi questo è proprio il va de me che noi diamo agli artigiani e anche agli story finder dopo vedremo quindi lo spazio per capire dove siamo posizionati all'interno del laboratorio il ritratto della persona figura centrale di solito che racconti in luogo che racconti cosa sta facendo lo spazio proprio dove le persone si trovano a lavorare da diverse angolature quindi anche dei particolari dello spazio e poi i dettagli di quello che fa l'artigiano le mani che lavorano, gli strumenti che usa, i tipi di lavorazione che sta facendo quindi proprio una narrazione anche nel dettaglio di quello che succede nel laboratorio e quindi in questo senso, dicevo prima della grande importanza che ha il laboratorio con il territorio l'artigiano diventa una destinazione ci siamo resi conto che quello che ci interessava era non soltanto fermarci alla narrazione visiva tramite digitale delle realtà ma invitare le persone a vivere di persona quindi passare dallo storytelling allo story living chiaramente per arrivare allo story living c'era bisogno delle parti di narrazione poi adesso storytelling è un problema che non si può più sentire però effettivamente era uno strumento per far poi incontrare di persona le due realtà innanzitutto abbiamo cominciato raccontando le storie su Facebook Instagram forse è così quasi di cui ce l'avevano pochissimi quindi il primo veicolo è stato Facebook che ancora oggi sicuramente ha un'importanza anche se è stato forse più soppiantato da Instagram che si è evoluto tantissimo in questi anni non soltanto con la parte del profilo questa che vediamo tradizionale ma anche e soprattutto con la parte legata alle stories che sono veramente uno strumento multiforme che dà la possibilità di giocare molto soprattutto a livello narrativo vabbè non mi sto a dilungare sulle storie di Instagram però ha veramente molte potenzialità un altro strumento che abbiamo utilizzato nella nostra narrazione è stato quello della newsletter che chiaramente è utile perché va ad intercettare tutto un pubblico che è già affezionato perché si è scritto alla tua newsletter quindi è un pubblico particolarmente interessato quello che hai da dire allora ci tengo a sottolineare che adesso sto raccontando la nostra esperienza ma questa nostra esperienza la possono utilizzare allo stesso modo anche sugli artigiani stessi che tanto è vero sempre di più hanno incominciato a lavorare in questi anni in questo modo e un altro passo interessante che io consiglio sempre è quello del crowdfunding a un certo punto della nostra esperienza nel 2016 abbiamo lanciato un crowdfunding perché? perché ci siamo resi conto che avevamo tantissimo materiale soprattutto fotografico bellissimo realizzato appunto dai meravigliosi story finder e che però era tutto un materiale digitale che era quello che volevamo però da un fronte ci fondava anche un peccato e allora abbiamo lanciato su Kickstarter la proposta di creare un libro di storie che si chiamava Mani e abbiamo chiesto l'aiuto di tutti per riuscire a realizzarlo e devo dire che è stato un ottimo successo è stato acquistato veramente da tutte le parti del mondo e questo è servito a noi anche a livello di marketing come strategia per farci conoscere noi e ovviamente anche tutte le storie degli artigiani che erano raccontate all'interno del libro le recensioni sono un altro strumento che sempre in un'ottica non solo Italian Stories ma anche artigiani è molto utile adesso sappiamo che ci sono tantissime piattaforme che accolgono le recensioni possiamo farle su Facebook possiamo farle su Google possiamo farle su TripAdvisor ci sono veramente molte e sono sicuramente sempre più importanti anche noi sul nostro sito le abbiamo ma ovviamente è utile che vengano condivise il più possibile su ogni tipo di piattaforma il blog anche questo chiaramente ci ha permesso sono tutti strumenti diversi che permettono di narrare in modo diverso e anche a pubblici diversi perché è importante tenere presente questo aspetto quando si parla di storytelling che ogni media, ogni mezzo, ogni strumento ha un suo pubblico di riferimento ha un codice comunicativo di riferimento specifico e noi è importante che sappiamo comunicare alle persone giuste con il codice giusto con lo strumento giusto poi va bene da noi c'è anche una messaggistica interna che permette agli artigiani di entrare in contatto direttamente con le persone e poi abbiamo partecipato anche questa volta offline a eventi collettivi in cui abbiamo raccontato le storie degli artigiani questo era il prima esatto c'è qualcosa che vuoi dire una specificità di un prima che adesso vedi svanino comunque che sta cambiando poi lasciamo il dopo per dopo l'altro intervento intanto introduciamo Morfaber e Dato Allora sicuramente prima rispetto al momento Covid sono tantissime cose nel senso che giustamente come sottolineavi anche tu prima ci spostiamo molto di meno la nostra che è una piattaforma che lavora proprio sull'incontro diretto è ovvio che è stato un momento un po' complicato posso dire cosa è successo nel Durante Durante è stato in realtà come credo per molti un momento molto creativo molto costruttivo anche da un certo punto di vista per cui abbiamo lanciato due progetti durante da una parte coinvolgendo artigiani che non facevano parte della platform Italian Stories abbiamo lanciato questo progetto su Instagram che si chiamava Un artigiano al giorno leva il virus ritorno che ha avuto una grandissima partecipazione chiedevamo ad artigiani di tutta Italia di raccontarsi ogni giorno era proprio diventato un appuntamento fisso raccontavamo una storia di un artigiano diverso e invece un lavoro che abbiamo fatto sempre durante la quarantena con gli artigiani della piattaforma Italian Stories li abbiamo invitati a prendere possesso del profilo Instagram di Italian Stories e per un quarto d'ora si chiamava un caffè con un artigiano invitavano le persone all'interno dei loro laboratori offrendogli virtualmente un caffè raccontandogli come era la loro giornata lavorativa quindi in questo senso abbiamo cercato di attivare anche in loro come dire una capacità autonarrativa tramite gli strumenti digitali e questo diciamo ha un prima durante però è stato interessante perché ha dato il là a tante iniziative che prima non trovavano spazio bene io direi di lasciare la parola adesso da Andrea Tomasi perché così facciamo raccontare anche lui l'esperienza di Homo Faber dal suo punto di vista di project manager di questa esperienza e partiamo anche da quello che ha guidato questa impresa questo progetto sin dall'inizio fino ad oggi diciamo fino a qualche mese fa quando poi ci siamo trovati in una realtà diversa tutti quanti una realtà diversa ma come giustamente dicevi prima una realtà anche ricca di stimoli anch'io inizio con una presentazione perché non tutti forse conoscono la Michelangelo Foundation e quello che abbiamo fatto e poi rispondo volentieri allo spunto che tu ci hai dato io mi chiamo Andrea Tomasi lavoro per la Michelangelo Foundation e sono un consulente della Michelangelo Foundation appunto per tutto quello che riguarda l'universo dello storytelling e della parte più editoriale della fondazione la fondazione è una fondazione svizzera che è nata nel 2016 per volontà dei due signori che vedete in questa foto a destra abbiamo Johan Rupert che è un businessman, un magnate sudafricano tra le altre cose proprietario di uno dei gruppi del lusso che si chiama Richemont e dal dottor Franco Cologni che invece è il signore che vedete sulla sinistra che è stato per tanti anni presidente di Cartier, presidente di Richemont Italia e che nel 25 anni fa ha creato a Milano una sua fondazione che si chiama Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte per la promozione dei Mestieri d'Arte in Italia quindi è stato diciamo un antessimiano della necessità di mettere in risalto, in rilievo la ricchezza sul nostro territorio appunto costituita dai grandi maestri artigiani il nostro obiettivo è quello di promuovere l'artigianato d'eccellenza in tutta Europa appunto nel 2016 Rupert ha detto a Cologni ma quello che tu stai facendo così con grande successo in Italia perché non proviamo a traslarlo a un livello più internazionale e quindi appunto è nata la Michelangelo Foundation che ha come sua filosofia quella di promuovere i Mestieri d'Arte su tutto il territorio europeo per tutto territorio europeo intendiamo davvero dall'Islanda all'Armenia, dal Portogallo alla Russia quindi un territorio estremamente vasto, estremamente ricco di differenze differenze che a volte sono difficili da trattare perché ci sono paesi dove i Mestieri d'Arte sono ben codificati e tutelati dai diversi stati e ci sono invece altre nazioni dove il craft è concepito in una maniera diversa dove siamo ancora a un livello quasi non voglio dire folcloristico del craft ma dove sicuramente ci sono meno strutture e meno interlocutori quindi lì il nostro compito è quello di andare a grattare davvero e a scovare le eccellenze artigiane un po' da soli andando veramente sul territorio grazie anche noi a un sistema di story finder come gli ha definiti la collega appunto sui diversi territori noi abbiamo ci basiamo su 11 criteri d'eccellenza Alberto Cavalli che è direttore della Fondazione Cologni e direttore della Michelangelo Foundation ha scritto questo libro che si chiama Il Valore del Mestiere e ha individuato 11 criteri che definiscono l'eccellenza artigiana sulla base di questi 11 criteri noi oggi ci muoviamo e muoviamo le nostre azioni appunto sulla base di questi criteri che ci permettono di individuare le eccellenze artigiane in tutto il territorio europeo sono dei criteri che abbiamo condiviso con i nostri partner la Michelangelo Foundation ha creato un network di oltre 80 associazioni sul territorio europeo associazioni che lavorano per la promozione del craft e con loro abbiamo condiviso questi criteri abbiamo invitato a usarli loro stessi per definire quella che è l'eccellenza artigiana nelle diverse nazioni e poi ci siamo messi al lavoro sui nostri progetti e sicuramente il progetto più grosso che alcuni di voi hanno forse avuto modo di scoprire due anni fa è stato Homo Faber per cui nel 2018 abbiamo creato questa prima edizione di questa celebrazione dei mestieri d'arte sull'isola di San Giorgio quindi alla fondazione Giorgio Cini abbiamo creato 16 spazi espositivi diversi affidati ad altrettanti curatori diversi quindi non un unico punto di vista questo è fondamentale ma diversi punti di vista per raccontare quello che è il craft in Europa oggi è stato un grandissimo successo perché in soli 18 giorni abbiamo avuto oltre 62 mila visitatori e questo ci ha spinti a riflettere a ragionare su una seconda edizione che si sarebbe conclusa proprio in questi giorni ma che chiaramente abbiamo deciso di posticipare a causa del covid e quindi la seconda edizione di Homo Faber si terrà sempre sull'isola di San Giorgio sempre alla fondazione Giorgio Cini e la novità è un ospite d'eccezione ovvero il Giappone abbiamo deciso di aprirci per questa seconda edizione ad un ospite straniero e siamo andati a guardare nella nazione che forse più di tutte ha lavorato sul concetto di artigianato d'eccellenza appunto il Giappone dove i più grandi maestri vengono insigniti del titolo di tesoro nazionale vivente da parte dello Stato quindi lo Stato riconosce ai suoi maestri questo titolo e che è un titolo quasi quasi leggendario perché fate conto addirittura che i maestri i tesori nazionali viventi non possono uscire di casa se non accompagnati perché sono veramente considerati quasi delle divinità nei loro diversi savoir faire noi crediamo molto negli eventi fisici crediamo molto nella necessità di incontrarsi di incontrare i maestri di vedere quello che fanno ed è per questo che difendiamo e portiamo avanti quest'idea di Homo Faber anche nel 2021 però c'è l'altra parte c'è l'altro componente che è il digitale che è un mondo che offre grandi opportunità offre grandi opportunità soprattutto a chi quel mondo lo esplora molto poco e sto parlando proprio degli artigiani perché molti artigiani non hanno una loro vita digitale molti artigiani sono ancora chiusi nelle loro botteghe e quasi non hanno neppure foto di loro al lavoro abbiamo invitato tutti i maestri di Homo Faber ma non solo loro perché abbiamo chiesto al nostro network di indicarci le eccellenze sui vari territori ma anche le giovani speranze nei diversi mestieri e abbiamo creato una piattaforma digitale quindi una guida online che è stata lanciata tre settimane fa che si chiama Homo Faber Guide che chiaramente vi invito a scaricare c'è un'app gratuita che si può scaricare da App Store oppure da Google Play l'idea è quella di un TripAdvisor degli artigiani con diverse differenze rispetto a TripAdvisor perché qui c'è una selezione c'è una selezione che è stata fatta dai nostri partner e da noi stessi quindi non ci sono tutti gli artigiani che ci sono in Europa c'è una selezione appunto di maestri, giovani speranze, atelier e manifatture ma siamo andati anche un po' oltre abbiamo cercato con questo progetto di offrire al navigatore, all'utente una piattaforma che ancora non esisteva dove si può trovare tutto quello che riguarda il craft, cioè io sono in una determinata città bene, posso scoprire gli artigiani che posso andare a conoscere, le botteghe che posso visitare anche noi abbiamo delle esperienze come in Italian Stories e quindi abbiamo dei laboratori che si possono fare ma abbiamo anche i musei, le collezioni da scoprire dedicate alle arti applicate abbiamo gallerie e negozi dove si possono acquistare oggetti manufatti di eccellenza e prossimamente avremo altre funzioni che lanceremo nei prossimi mesi quindi abbiamo a oggi 650, più di 650 artigiani presentati sulla nostra guida abbiamo 40 manifatture ed è un lavoro che via via si arricchisce ogni settimana di nuovi contenuti e ci siamo lungamente interrogati se lanciare questa applicazione, questo sito in un periodo così complesso questo è uno strumento pensato per chi viaggia sicuramente il nostro intento è davvero di offrire a chi viaggia uno strumento per scoprire le città da un punto di vista diverso all'inizio abbiamo, questo progetto doveva essere lanciato in aprile in aprile ci siamo detti no, non è il momento non è il momento perché siamo tutti in casa, siamo tutti bloccati in casa e poi ci siamo avvicinati a settembre e abbiamo detto beh però siamo ancora in casa sì, ok, quest'estate abbiamo viaggiato sapendo che probabilmente la festa sarebbe durata poco i numeri di questi giorni stanno dimostrando che la festa probabilmente è durata poco cosa facciamo? abbiamo deciso di lanciarla lo stesso anche se siamo a casa perché proprio perché siamo a casa noi stiamo imparando a viaggiare in un altro modo stiamo anche se siamo appunto costretti a non muoverci continuiamo a muoverci con la testa la nostra curiosità non si ferma, non si arresta e quindi abbiamo deciso di lanciare questo progetto ugualmente anche se appunto non si può viaggiare in questo momento perché questo è un viaggio che comunque si può fare anche restando a casa sul divano ed è un viaggio che veramente ti porta dal Portogallo alla Russia come dicevo prima, dall'Islanda alla Grecia su territori diversi a scoprire delle storie diverse qui arriviamo a un punto molto importante a proposito di storytelling noi non ci siamo limitati a presentare l'artigiano con poche righe e il suo indirizzo e quattro foto abbiamo fatto un lavoro di racconto perché un artigiano porta con sé un mondo e quel mondo va raccontato e va scoperto e quindi tutti gli artigiani i 700 artigiani, i 650 artigiani che sono presenti sulla guida sono tutti raccontati attraverso un'intervista quindi davvero c'è stato un lavoro editoriale importante per andare a raccontare questo universo che è un universo in difficoltà come abbiamo detto prima è un universo che va sostenuto io spero che questo momento così complesso ci spinga a essere più etici nelle nostre scelte nelle nostre scelte d'acquisto oltretutto la casa sta diventando sta tornando ad essere un punto centrale perché molti di noi ora vivono la casa molto più di quanto la si viveva prima probabilmente torneremo in ufficio meno e quindi abbiamo la necessità di vestire la nostra casa di bellezza e questa bellezza deve avere dei valori non voglio banalizzare dicendo che l'oggetto in serie fatto in Cina non è eticamente corretto però è giusto in questo momento perdersi dentro le storie di questi artigiani e sostenere e sposare i valori che questi maestri portano avanti con difficoltà e a proposito del prima e del dopo parlando con loro loro stessi stanno scoprendo quanto è importante il digitale in questo momento molti di loro si sono ritrovati a dover abbassare le serrande perché vivevano in città e lavorano in città turistiche dove di turisti non ce ne sono più e quindi hanno capito che il digitale può essere uno strumento può essere uno strumento dove presentare dove presentare il proprio lavoro e la propria storia sta a noi utenti riuscire a cogliere la differenza e apprezzare la differenza che c'è appunto dietro a un lavoro fatto da un maestro con tempo con sacrificio e con tutti quei valori appunto che l'artigianato porta con sé Nel ringraziarvi per questa così carrellata molto interessante rispetto al dopo volevo fare una domanda più specifica sul dopo che mi è venuta in mente mentre vi ascoltavo anzi in realtà sono due le domande una è la cosa che non mi piace più dello storytelling da tanto tempo è il fatto che spesso ha a che fare vedo un prodotto ben confezionato perfetto un racconto però non è un dialogo ma è un racconto cioè io devo ascoltare qualcuno che racconta e questa è la parte meno divertente per me nel senso che più divertente è conversare e interagire e allora mi domandavo se attraverso nuovi strumenti che ci stanno sospingendo nel mondo digitale io penso tutte le esperienze fantastiche che ho fatto su Zoom in questi mesi interagendo con persone così sconosciute e anche con eventi o con attività che hanno aperto un grandissimo pubblico c'è questa idea dell'interazione cioè del fatto che anche tu comunque sei lì e ti vedono cioè sei parte di quel dialogo non sei non sei solo un ricettore di una bella storia ma sei parte di quella storia e puoi contribuire a quella storia quindi una era la dimensione di interazione e l'altra domanda era siamo ancora comunque collegati a un'idea di eccellenza di bellezza di valore che però ha un prezzo elevato quindi stiamo parlando di lusso o no o è accessibile a tutti perché una delle cose che notavo che notavo in queste piattaforme globali è che queste piattaforme globali ti danno ti danno tutto nel senso che partono dal livello più alto e arrivano a livello più basso quindi grande capacità di andare a pescare anche in un pubblico che non necessariamente ha la disponibilità economica per e allora mi domandavo che cosa come vedete voi il futuro di questo tipo di piattaforme di questo tipo di attività di questi progetti rispetto al target del pubblico che avete di fronte perché è evidente che questa storia ci fa stare tutti a casa facciamo più smart working ma ci sono anche tante persone che invece non fanno smart working vanno a lavorare che non hanno case successivamente belle da vivere quindi c'è comunque anche una costruzione per una fascia di pubblico che vede questo periodo come un periodo sicuramente più nero più cupo in questo senso queste erano le mie domande per voi quindi interazione e target allora rispetto alla prima domanda quella diciamo più relativa al dopo cosa è successo allora in realtà sì è molto interessante e mi ricollego un po' a quello che dicevo che è successo nel durante gli artigiani che abbiamo coinvolto in queste attività di cui dicevo prima tramite attività su Instagram ci hanno ringraziato perché hanno scoperto la possibilità di interagire cosa appunto dicevi tu con le persone attraverso questi canali per esempio appunto noi abbiamo simulato questo incontro in una diretta sulle stories di Instagram che permetteva già durante la diretta stessa perché le persone sapete no che possono mandare dei messaggi e quindi facevano delle domande mentre l'artigiano mostrava la sua realtà e quindi già lì c'era una sorta di dialogo che era quello che chiedevi appunto tu da lì poi sono partite in diverse realtà delle idee proprio per superare questo momento che non permetteva un incontro diretto una comunicazione diretta per esempio alcuni artigiani si sono inventati di creare un kit dei loro prodotti che sarebbe stato spedito a caso delle persone e che avrebbero avuto dentro tutto il materiale necessario per fare le esperienze che avrebbero invece potuto fare in laboratorio e compreso nel kit anche un'ora di diretta o di incontro Zoom Facebook Instagram con l'artigiano che spiegava come utilizzare questo materiale quindi effettivamente questo strato è stato un prodotto nuovo che è uscito da questa esigenza che sottolineavi tu adesso di comunque mantenere un'interazione anche in un momento in cui forse era più difficile averla e altri invece che hanno continuato a lavorare su questo tema della comunicazione diretta tramite gli strumenti digitali tramite le piattaforme anche successivamente con il loro pubblico quindi come dire hanno scoperto la possibilità di mantenere una relazione online che fosse proprio più interattiva e questo era quello che dicevi tu ecco ed è un aspetto che secondo me è interessante che è uscito e che potrebbe comunque rimanere al di là di quello che succederà al covid o meno perché comunque diventa una modalità nuova ancora che prima non c'era e mentre target cioè sono cose che possono permettersene oppure di entrare in un campo dove si può sperimentare anche allora questo è un tema che a me preme sempre molto da molto caldo sì non c'è niente da fare il prodotto artigianato di qualità il prodotto artigianato di qualità costa magari non costa delle enormità però sicuramente costa più del piatto fatto in serie che magari appunto viene dalla Cina è ovvio che lì è una questione intanto un po' di scelte personali però credo che tutti stiamo andando verso la comprensione del fatto che non è più sostenibile questo modo di vivere quindi anche a livello di acquisti dobbiamo limitare i nostri acquisti e magari possiamo investire in un acquisto che ha più valore ha più più duraturo ha più senso anche per questo tipo di realtà poi c'è il tema della detassazione che secondo me sarebbe fondamentale cioè io credo che l'artigianato artistico dovrebbe essere valutato dal punto di vista fiscale come l'arte cioè detassato in modo tale che ognuno si possa permettere non so ma anche banalmente non dico le posate d'argento ma dei piatti fatti da un artigiano ma nessuno non ci sono cose più artigiane che fanno i piatti per la casa mentre una volta era normale avere ecco e io vorrei cioè mi piacerebbe che si concesso a ragionare a livello anche proprio nazionale di detassare questi questi beni che potrebbero tornare ad essere beni che fanno parte delle nostre case e quindi andare in quella direzione che si diceva di uno spazio anche più bello dove vivere grazie perché perché quando uno si avvicina a quel mondo lì quando uno fa la scelta di andare ad acquistare un prodotto da un artigiano è perché sposa quei valori sposa quel mondo vuole entrare in quel mondo vuole conoscere vuole sapere e quindi bisogna dare la parola agli artigiani bisogna lasciarli raccontare e per noi questo è stato veramente fondamentale sia per sia sull'evento di Venezia sia nella nostra guida la nostra guida sono interviste quindi sono delle domande e sono delle risposte non è un racconto nostro del siamo andati alla bottega e vi raccontiamo scritta bene com'è la bottega no facciamo raccontare gli artigiani la loro storia e un'altra cosa che ci siamo inventati una grande invenzione ma sicuramente una cosa molto interessante ogni due settimane noi aggiungeremo una videochiamata ad uno degli artigiani e invitiamo l'artigiano a farci scoprire che cosa sta facendo su che cosa sta lavorando qual è il suo laboratorio e davvero farci entrare nel suo universo perché ripeto quando si sceglie un artigiano si sceglie un mondo si sposa un mondo e si sposano dei valori non c'è niente da fare un oggetto fatto a mano richiede tempo e quindi il tempo ha un valore ha un valore anche economico è chiaro che un oggetto fatto da un artigiano è un oggetto prezioso un oggetto che ha un costo nella guida però ci siamo impegnati a presentare anche artigiani cosiddetti funzionali cioè che realizzano non solo bellissimi oggetti da collezione ma realizzano ad esempio i piatti di cui parlavamo prima realizzano i bicchieri per tutti i giorni e quindi abbiamo cercato di creare un range di prodotti diversi forse abbiamo capito che less is more e che è meglio un oggetto che dura nel tempo fatto secondo determinati valori piuttosto che questa fuga continua a voler a voler riempire gli armadi di cose e spero che nel 2021 in Homo Faber anche lì riusciremo a presentare un range diverso di prodotti proprio per avvicinare anche chi a questo mondo non si è mai avvicinato chi magari ha meno disponibilità anche economica ad avvicinarsi a questo mondo perché come dicevamo prima chiaramente gli oggetti fatti a mano hanno un valore e questo è sicuramente un punto ed è una sfida molto importante anche da parte nostra di chi presenta il lavoro di questi artigiani bene vedo che c'è una domanda allora Emilio che chiede a tutti buongiorno mi chiamo Emilio secondo voi quanto tempo dovrebbe dedicare un eccellente artigiano che deve produrre creare innovare i propri prodotti le proprie tecniche immagino gestire aspetti normativi fiscali digitalizzazione stretelli mail list browser indicizzazioni grazie quindi mi sembra una domanda diciamo un po' sfidante nel senso secondo voi date le 24 ore al giorno quanto tempo dovrebbe dedicare un artigiano quindi in questo caso è chiaro è chiaro che è chiaro che l'artigiano deve creare c'è la burocrazia e tutto però è fondamentale secondo me che gli artigiani capiscano il valore della comunicazione del saper comunicare la propria storia questo è uno dei problemi che noi abbiamo avuto durante la realizzazione della nostra guida spesso chiamavamo degli artigiani e dicevamo guarda stiamo lavorando a questo progetto penso che sia un problema che hanno incontrato anche gli amici di Italian Stories noi stiamo realizzando questo progetto ci mandi delle foto tue perché ci servono delle foto tue e ti senti rispondere io foto non ne ho come non hai foto tue no non ne ho fatte non ho tempo non ho tempo di farle insomma al giorno d'oggi è sempre più importante e questa è una delle sfide che io lancio agli artigiani con cui noi lavoriamo è importante saper comunicare perché tu puoi essere il più bravo il più bravo argentiere d'Europa ma se non comunichi il tuo savoir faire se non sai comunicare il tuo savoir faire nel mondo di oggi rischi di essere come dire dimenticato soprattutto se sei un un giovane o uno che si sta affacciando a questo a questo mondo perché ok se sei Nicola Mariscael per dire che è un grande maestro francese lui è un grandissimo nome forse non ha bisogno neppure di di Instagram e di tutti questi strumenti però diamine bisogna capire che è una parte importante certo certo ci sono tanti aspetti a cui star dietro però tutti noi siamo siamo chiamati a ormai a frazionarci tra tra diversi impegni e bisogna secondo me trovare trovare il tempo anche per quello anche se molto spesso la natura degli artigiani non voglio dire ostile ma ma molti amano lavorare da soli non non amano diciamo non voglio dire il confronto con il pubblico però molti sono un po' orsi diciamocelo fuori dai denti insomma però è importante è importante al giorno d'oggi è fondamentale oserei dire una risposta ulteriore alla domanda di Emilio chiederei a questo punto per rispondere ad Emilio sempre se c'è quindi se voi avete trovato ad esempio nella vostra nelle vostre Italian Stories una bisogno di fare massa critica con altri insieme agli artigiani che quindi vuol dire supporto di cose molto pratiche operative da parte vostra per poter aiutarli a comunicare meglio ad entrare in questo che diventa quindi non l'ennesima cosa da fare ma un modo per razionalizzare il mio tempo e quindi dedicarmi di più a quello che so fare meglio e magari mettere in comune con altri quello che non riesco a fare bene da solo o no? Tutti noi oggi siamo chiamati a dividerci purtroppo in tanti ruoli e forse per non tutti siamo adeguatamente preparati è per quello che fin dall'inizio noi abbiamo creato questo Vademecum che appunto facevo vedere prima chiedesse delle indicazioni il più possibile chiare e utili agli artigiani per anche con un loro semplice cellulare farsi delle foto farsi fare delle foto che fossero almeno minimamente accettabili quindi gli abbiamo proprio dato una serie di indicazioni tecniche e iconografiche per potersi rappresentare quindi questo aspetto della formazione che noi abbiamo fatto che stiamo sempre facendo che continuiamo a fare per gli artigiani è sicuramente stato centrale nel nostro lavoro e sempre più ci si rende conto che chi è in grado di gestire anche questi aspetti riesce a far crescere la tua attività allora vorrei dare un parere io personalmente ho un'agenzia di comunicazione quindi quello che suggerisco a tutti gli artigiani è quello di dedicare o una mezza giornata alla settimana o un'ora al giorno perché in teoria Instagram piuttosto che Facebook hanno bisogno di essere in qualche modo alimentati con una certa frequenza quindi è importante inserire dei contenuti se una persona non ha tempo è importante che decida di dedicare comunque del tempo settimanalmente ai vari social network perché perché il dialogo con il pubblico deve assolutamente avvenire e avvenire in maniera costante non si può io ho tante persone che cominciano in maniera entusiasta cominciano a mettere dentro video cominciano gli si fa un po' di formazione poi loro partono e cominciano con la comunicazione vera e propria però dopo due tre mesi perdono entusiasmo quindi se prima avevano una frequenza che poteva essere di due tre volte a settimana dopodiché questa frequenza scema fino ad arrivare quasi zero una volta al mese io direi cominciate a fare comunicazione nei social network almeno un paio di volte a settimana e cercate di mantenere questo ritmo con costanza per cui poi ci sono agenzie che vi aiutano ci sono sistemi piattaforme di storytelling che vi danno una mano a raccontare chi siete e quindi voi dovrete essere in tutte queste vetrine per poter far vedere a più persone possibili la vostra attività nello stesso tempo Anna dice non si rischia di mercificare il proprio lavoro e allora il fatto di essere in un portale e-commerce permette di aggiungere una punto vendita sostanzialmente per cui questo punto vendita è assolutamente essenziale nel momento in cui c'è un calo di lavoro nel momento in cui voi avete una produzione che riuscite direttamente a vendere in maniera rapida e non avete crisi non avete bisogno di tanti punti vendita però la vetrina online vi permette di essere presenti nel mercato di vetrine online di portali che hanno già una promozione non serve fare il proprio e-commerce tanti lo fanno però ci sono tantissimi portali che vi permettono di essere presenti e fanno la pubblicità per voi quindi voi non dovete perdere tempo in attività SEO piuttosto che in attività di promozione del vostro portale cosa che vi farebbe perdere l'obiettivo rispetto al vostro prodotto lascio la parola per rispondere a Anna a Tommasi assolutamente corretto quello che hai appena detto cioè è una vetrina aggiuntiva e oggi come oggi ci sono tutta una serie di piattaforme per cui non è necessario aprire un proprio e-commerce con tutto quello che questo succede tenendo anche conto che l'e-commerce non può essere la panacea tutti i mali diciamo che a oggi i risultati degli e-commerce sul lavoro artigianale non sono esattamente esaltanti questo secondo me per una semplice ragione un oggetto un oggetto d'arte va visto un oggetto d'arte va toccato va va ammirato ed è sicuramente sono degli oggetti più complessi da vendere online senza senza essere visti insomma forse forse ci abitueremo anche a questo però è quello che dicevo prima quando se devo comprare scusate proprio un po' prosaico se devo comprare delle mutande ok le posso comprare anche online intanto so la mia taglia e poco mi importa ma se io devo prendere un oggetto che è fatto da un artigiano io ho voglia di scoprire l'universo dell'artigiano ho voglia di scoprire il suo mondo ho voglia di vederlo ho voglia di toccarlo perché sono degli oggetti che ok anche le mutande le uso tutti i giorni però un oggetto d'arte io ce l'ho davanti agli occhi tutto il giorno e la bellezza e la bellezza va ammirata va ammirata quindi io sono un po' scettico sull'e-commerce per 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 l'artigianato sicuramente è una vetrina sicuramente può essere una vetrina aggiuntiva magari io conosco già un artista ho già dei pezzi suoi e e mi torna facile comprarne degli altri attraverso attraverso l'e-commerce per cui però per proprio per dare un suggerimento pratico come diceva prima ci sono delle piattaforme già esistenti sulle quali ci si può affacciare senza dover immaginare di spendere un sacco di soldi per creare un proprio e-commerce quella può essere può essere una soluzione e secondo me è una soluzione giusta perché comunque una vetrina in più non non nuoce di sicuro beh allora intanto rispetto alla domanda di Anna secondo me bisogna un po' distinguere tra vari tipi di prodotto artigiano nel senso che puoi comprarti il piatto in ceramica e puoi comprati il pezzo di alto artigianato orafo è chiaro che hanno due costi diversi due utilità diverse e quindi magari non so il piatto in ceramica ti puoi permettere di comprarlo tranquillamente online mentre invece il pezzo dell'ora magari fa un po' più fatica quindi concordo sul fatto che come diceva prima Andrea alcune cose vanno viste di persona e c'è poco da fare per carità e c'è anche chi compra di tutto online senza problemi a quanto so io le piattaforme di commerce di alto artigianato insomma non è che proprio facciano dei numeri pazzeschi quindi effettivamente credo che faccia numeri più interessanti che vende un prodotto artigianale però di qualità insomma più più limitata rispetto a quello dell'arte artigianato ma anche proprio a una questione di valore economico diverso quindi ci si sente più tranquilli a comprare anche online rispetto alla possibilità di utilizzare queste piattaforme per vendere il proprio prodotto piuttosto che avere il proprio e-commerce personale io credo dipenda molto anche dalla capacità proprio del singolo soggetto di utilizzare lo strumento digitale se si tratta di una persona che appunto ha grandi capacità di autogestione dei social della piattaforma e riesce ad intrattenere un buon rapporto continuo con il suo pubblico io ne conosco diversi che fanno parte della nostra piattaforma ma in generale conosco diversi che hanno questa capacità relazionale digitale molto alta è chiaro che a questi soggetti qui conviene avere un proprio e-commerce o comunque di vendere online perché il loro pubblico ce l'hanno a portata di mano hanno confidenza a volte restano anche proprio come clienti affezionati continuano a comprare o poi vanno a trovarli quando finalmente si trovano e questa realtà probabilmente non ha bisogno di una piattaforma di commerce multipla può avere anche semplicemente il suo proprio canale diretto quindi secondo me dipende molto anche da quelle che sono proprio le capacità del singolo soggetto vedevo un'altra domanda di questa adorabile ragazza Orafa sì questa domanda se posso interrompere la stavo leggendo è una domanda molto molto interessante appunto è la domanda di Didi che ci racconta che è un artigiano Orafa che ha studiato diverse tecniche in Spagna che è appena tornata nelle Marche che sta cercando di aprire uno spazio con altri incontrando mille più di mille difficoltà con la burocrazia e questo è purtroppo un altro un altro grosso tema su cui la fondazione Cologna ad esempio in Italia si sta battendo da tempo quello di cercare di di snellire tutte queste pratiche burocratiche per per aprire delle attività purtroppo viviamo in un paese ma non è l'unico paese vi posso assicurare dove la burocrazia complica la vita delle persone io quello che mi sento di dire voglio raccontarti un esempio positivo nella speranza che tu riesca a realizzare questo questo tuo desiderio proprio questa mattina sono stato qui a Milano in uno in uno spazio di co-working che è stato aperto un anno e mezzo fa da un giovane gliutaio che ha messo insieme altri quattro ragazzi altri quattro gliutai dell'interland milanese hanno aperto uno spazio molto bello insieme e lavorano ognuno ha il proprio ai propri clienti quindi sono concorrenti tra di loro tecnicamente ma sono riusciti a realizzare a realizzare questo questo spazio molto bello dove lavorano dove lavorano insieme io spero che come sempre in Italia le mode arrivano un po' dopo e in Europa ci sono diverse diverse realtà di co-working che stanno nascendo anche grazie all'aiuto dello Stato qua a Milano se ne parlava un po' di tempo fa c'era un progetto che era stato brevemente preso brevemente non neanche tanto insomma preso in considerazione dal comune poi non se ne è più fatto niente di trasformare degli spazi ferroviari abbandonati in atelier per in atelier per gli artigiani e per gli artisti e in tutta Europa ci sono molte realtà di questo genere per cui degli spazi che vengono riconvertiti e creati dei co-working per per gli artigiani speriamo insomma che anche da noi prima o poi questa moda che ad esempio in Francia ci sono degli spazi molto interessanti in Belgio c'è uno spazio molto molto bello poco lontano dall'aeroporto di Bruxelles insomma speriamo che anche da noi si possano si possano si possa arrivare a questo quello che quello che mi sento di dire a D è di e di non lasciarsi abbattere dalle mille difficoltà che alla fine alla fine ce la si fa io a D vorrei dire che già che è marchigiana io so che nel Marchi c'è un sacco di artigiane che fanno cose insieme si trovano e soprattutto in particolare c'è la Daniela di Letti che è proprio un'artigiana marchigiana che ha aperto un co-working artigiano diciamo comunque un gruppo di lavoro con altre proprie artigiane a Montalcino quindi credo che in qualche modo si riescano a fare questi tipi di attività adesso io non lo so perché non è proprio il mio non sono focalizzato su questo aspetto però so che lo stanno facendo quindi che si metta in contatto che veda come funziona da loro sicuramente troverà modo di confrontarsi di avere delle risposte più concrete forse di quelle che possiamo dare noi che non siamo proprio così dentro purtroppo la burocrazia è uno dei grossi problemi e con cui si deve scontrare l'artigianato oggi un altro è la mancanza di formazione anche io volevo dare una risposta e in questa risposta rilanciare a un altro tema che chiaramente non è quello che disprattiamo oggi ma che è collegato secondo me rispetto alle ultime due domande quindi trovare degli spazi la burocrazia la difficoltà di trovare lo spazio all'interno di categorie che sono date e soprattutto la domanda precedente che invece parlava del rischio di appiattire in qualche modo il prodotto artigianale a un'idea di merce che quella fast veloce tu clicchi e ce l'hai in due giorni quindi come a dire che si trascura tutto il tempo che l'artigiano ha bisogno di usare per poter progettare fare realizzare anche per farsi venire un'idea nel momento giusto magari in relazione con un utente che incontra in una rete io credo che il prossimo che la vera sfida oggi oltre agli spazi di co-working eccetera sia quella di ripopolare le città non solo di eventi ma di spazi stabili che siano gestiti da curatori per me i curatori sono il commercio ad un certo livello che ha un lavoro curatoriale fondamentale nel dover accompagnare nel poter accompagnare anche questo tipo di prodotti perché altrimenti rischiamo di vivere ma io lo parlo io lo dico più che altro per l'esperienza qui tu che sei a Milano chiaramente Milano è una città che ha prodotto uno stacco notevole rispetto alle altre città del nord Italia in particolare ma io penso Venezia e la realtà di Venezia dove tu vivi una realtà fatta di eventi magari entusiasmanti e poi di edifici abbandonati di negozi chiusi l'Interland eccetera in grande crisi c'è bisogno di pensare anche a una quotidianità in cui tu ritrovi quegli stimoli che hai visto a livello di evento annuale o biennale ma poi tu li ritrovi in uno spazio che diventa il tramite per proseguire quel racconto e quindi il commercio online e l'offline cioè le due sono due facce fondamentali del rapporto che io credo che l'artigiano l'arte la creatività e il design debbano stabilire con un mercato perché altrimenti appunto il rischio forse c'è di appiattire tutto su una piattaforma online la piattaforma lancia qualcosa ma poi c'è bisogno di spazi e ne abbiamo tanti di spazi nelle città di spazi vuoti ce ne sono tantissimi in giro e non parlo solo di qui ma anche in altre città italiane di spazi vuoti ce ne sono perché la crisi ha prodotto tanti spazi vuoti e c'è bisogno di ripopolarli con appunto attività che quotidianamente ci mettano di fronte che ci ricordino tutto quello che abbiamo visto visitando il mondo su una guida online ma poi vedendolo toccandolo e grazie a una scelta che è fatta da chi poi è artefice perché poi bisogna anche riconoscere il valore di mediazione quindi anche recuperare il valore a quello che è il commercio che è il luogo di interazione fondamentale che non può essere solo paragonato a una piattaforma e-commerce sulla base di un prezzo ma dove si apprezza proprio quel lavoro di scelta anche di coprogettazione magari con un artigiano con un creativo che nasce dal fatto che io conosco il mercato tu conosci il tuo mestiere ci mettiamo io ti faccio da tramite e ti permetto di valorizzare al meglio e chiaramente il mio valore va riconosciuto questo è il grosso problema perché purtroppo spesso le piattaforme di e-commerce poi diciamo che appiattiscono a livello del prezzo e quindi hanno vinto in questi anni un po' la concorrenza con gli spazi fisici sulla base del prezzo ma questo evidentemente non è sufficiente e non assolutamente per questo tipo di prodotti quindi rilancio sulle città d'altra parte il commercio mi sembra il luogo giusto per rilanciare sulle città il progetto il progetto di cui parlavo prima vicino all'aeroporto di Bruxelles è esattamente un progetto di un designer curatore che ha preso questo spazio e è andato a cercare lui degli artigiani e li ha messi insieme con una curatela sopra la testa insomma quindi è esattamente questo spirito che stavi dicendo ora c'entra anche molto la politica nel senso che nel senso che le nostre città sono piene di spazi vuoti molti dei quali sono di proprietà dei diversi comuni e appunto a Parigi via Duc des Arts era una zona di proprietà della Meri di Parigi abbandonata e hanno deciso di fare questo viadotto delle arti dove ci sono diverse 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 atelier ma lì c'era una volontà politica di credere nell'artigianato insomma purtroppo non non sempre gli artigiani sono in cima ai pensieri di chi di chi governa le città insomma un'altra un'altra cosa importante è anche che gli artigiani stessi si facciano motori di tutto questo magari federandosi ad esempio a Venezia alcuni grandi 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 artigiani botteghe un po' più strutturate hanno deciso di mettersi insieme per cercare di dare appunto una scossa alla alla città facendola vivere attraverso degli spazi fisici perché possiamo raccontarci quello che vogliamo internet fondamentale il digitale fondamentale ma gli spazi fisici e il bisogno di incontrarsi di vedere gli artigiani resta la base certo certo quindi le città sono un punto d'approdo sempre le relazioni non ci siamo smaterializzati completamente quindi abbiamo ancora bisogno di realtà fisiche bene io credo che siamo arrivati alla fine di questa molto non solo piacevole ma anche interessante chiacchierata quindi ringraziamo gli ospiti ringrazio grazie a voi la Venice Design Week per aver ospitato questo incontro e immagino che sabato sarà un ulteriore approfondimento chissà quante altre domande ci saranno insomma complice anche il fatto che è sabato grazie a voi grazie a tutti grazie ciao 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 grazie